Una questione di divergenze nel modo di intendere l'attività politica, due vision diverse dell'amministrazione della cosa pubblica. È questa la motivazione centrale che ha spinto i tre consiglieri comunali di Isernia, Umberto Di Giacomo, Andrea Di Rollo e Alex Paniccia, a lasciare volte fondare il gruppo di maggioranza comunità attiva. Nessuna dietrologia quindi, ma solo il desiderio di cercare la miglior strada possibile per svolgere il proprio lavoro. A sottolinearlo è lo stesso Di Giacomo che aveva comunicato pubblicamente la notizia. Quando accadono queste cose non è che c'è un momento cruciale, ci si rende conto in modo anche automatico per certi aspetti che le cose possono essere fatte meglio se vengono affrontate distintamente da due entità politiche diverse. La politica credo che abbia molto a che fare con come si intende a livello anche caratteriale gestire la cosa pubblica. C'è sinceramente la volontà di approcciare magari da due forme diverse, lo stesso utile, la risoluzione dei problemi. C'è la presa d'atto di una distanza in cui abbiamo dato forma dando vita a un nuovo gruppo. Una divergenza non già di obiettivi ma piuttosto di strategie. Credo che gli obiettivi siano gli stessi, siano comuni. Noi abbiamo un programma elettorale che rappresenta comunque la bussola. Non parlerei nemmeno di metodologie, fondamentalmente forse di approcci ma non è mia intenzione dare dei giudizi. A volte è stata un'esperienza che secondo me è stata molto utile, è servita a tutti. I tentativi di sanare questa distanza, rimarca Di Giacomo, sono morti sul nascere. C'è stata occasione molti mesi fa. Poi le cose purtroppo anche per mancata voglia o forse perché si è già deciso che il percorso sarà diverso, non c'è stato un riavvicinamento. Nel suo post Facebook l'ex esponente di Volt ribadisce di non ricriminare nulla del percorso precedente neppure ciò che è stato fatto tra virgolette male. Il fatto di cose sbagliate significa anche cose non terminate, non significa necessariamente cose fatte e cose sbagliate quindi assolutamente non recrimino nulla. L'impegno della nuova formazione consigliare è quello di perseguire i traguardi che erano stati prefissati fin dall'inizio. Battere su alcuni tasti, quello del verde, forse noi magari ci possiamo concentrare sugli obiettivi più a breve termine ci sono altri che si stanno concentrando sui macro obiettivi.